Sono le tre e mezza di pomeriggio e alle sei inizia tutta le performance di eventi, ci sono varie stazioni, musica reg, e Marcello sta facendo uno stage e ha mucchiato cinque allievi. E' uno strumento indiano? No, mi sembra che lui non lo stendo lo strumento indiano. Prima era una battuta che ho fatto. Ok. Dalle guance strette. Quello che ho fatto io, che ho detto la posizione delle guance strette, è così. Non te l'ha immaginato la posizione. Giulia dove vai? Quasi spontanea, se non ci pensi viene spontanea. Prova a suonartelo poco poco laterale, se trovi difficoltà.